Salve a tutti friends, eccoci qua ragazzi, finalmente sono entrato in possesso della replica della trasmissione Twitch dell'altra sera della competizione di assetto corsa con cui ho partecipato, invitato dagli amici della eSport Online Racing devo dire che sono una squadra veramente affiatata, sono bravi, veramente avanzati da tutti i punti di vista soprattutto tecnologici, hanno una bella grafica canale, riescono a trasmettere le trasmissioni con enfasi e spostando il focus sempre al centro dell'azione, quindi raga vi propongo questa gara che è una ripresa esterna stile televisivo della mia prima competizione con loro, che dire raga, come al solito sono arrivato tardi infatti mi vedrete a qualifiche già iniziate, entrare proprio all'ultimo secondo e anche i commentatori lo faranno notare purtroppo sono un ritardatario di natura quindi lasciamo perdere questa cosa e niente raga ero molto teso, come potete vedere qua ci sono le qualifiche ho fatto un primo tentativo raga nelle qualifiche dopo che il pomeriggio per un'oretta mi ero allenato a Silverstone con la McLaren facendo come miglior tempo un 1'59'7 che mi sembrava già un buon tempo durante le qualifiche riusciamo comunque a calare ancora a scendere al tempo di 1'59'1 mi sembra più o meno che c'è valso la tredicesima posizione su 18 ora molti diranno, eh ma corri com'è tredicesimo allora ragazzi la cosa positiva era che dal nono a noi che eravamo tredicesimi c'erano pochi decimi di distacco quindi sapevo che potevo stare nei primi 10 i primi 9 che praticamente arrivavano all'ordine d'arrivo si sarebbero qualificati per la finalissima perché sono stati due semifinali e io partecipo alla seconda i primi 18 avrebbero fatto la finale ragazzi quindi ero molto emozionato la mia prima gara in un livello così alto quindi chiaramente ero molto molto teso come potrete vedere anche chi ha visto la trasmissione dalla on board della mia vettura perciò ragazzi siamo partiti per queste qualifiche sperando di far bene e alla fin fine devo dire che il risultato c'è stato tredicesimo posto e siamo potuti comunque partire a ridosso dei primi 10 per poter entrare in zona top 9 che ci qualificava in finale andiamo a partire poi ti dico chi è si si ho visto ok è il bertosh parte ora ah non è vero questo è l'altro l'altro circuito forza della vita ma non te abbero togliere le striscette lì per terra ma è simulativo quindi lasciano anche le scritte in terra tutti e 17 in pista i ragazzi quindi anche supercari se riuscite a scendere sì 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 sono tutti solo io sono i box sono solo io mentre il bertosh è proprio adesso sulla linea di partenza questa volta è cosa giusta esatto di lui i pachi e poi la nuova la vettura numero 721 che è quella di TRST e poi via via tutti gli altri che sono molto vicini molto vicini un po' che hanno preso lo spazio c'è un gruppetto di numero 22 Alex Digre ho preferito prendersi uno spazio ampio per poter fare il suo giro cosa che anche io preferisco personalmente assolutamente 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 e bertosh esce molto bene arriva adesso alla stop è abbastanza interna la stop bertosh buon pilota anche il bertosh ottimo mondo spesso vicino anche i tempi del fratello eh poca manca questa prima fase è un po' più complessa da seguire ma poi è più facile seguire i giri sapendo chi è nel giro veloce ad esempio fa chi è tagliato mentre via l'estè è ancora nel suo giro e bertosh arriva adesso al veluco è una leggera decisione ancora l'entrata del veluco questo taglia invece qua fondamentale qua la trazione in uscita perché c'è un lungo rettilineo da sfruttare per andare verso la fine del giro Bruklands e Laffield sinistra destra doppio punto di corda qua si ragazzi allontana lui sta molto abbottonato tranquillo oh taglia molto quel per taci secondo me è strettissimo 57 e 2 però è buono fa già un guadissimo vado io su Top Gun è ristissimo PRS sta concludendo ora PRS sta concludendo ora PRS è secondo ovviamente a 1 e 7 però è abbastanza alto il suo tempo arriva X-Loyd 58 e 2 ha il giro tagliato Top Gun tanto non ha senso rimanere su di lui adesso Alex Tigre invece non ha il giro tagliato arriva sul traguardo 1,57 e 2,110 si mette davanti a Bertosh adesso anche Smoss sul traguardo anche lui sta arrivando porca vacca di gran carriera che ha anche Lucas Brain l'avanti si è appena lanciato eh ma c'è prima numero 26 Super Chorus adesso di lui poi sicuramente andiamo su Top Porca Vacca e Top Gun per vedere i due quando ho mostrato prima di tempi più veloci intanto siamo su Super Chorus 84 vai lui si va a lanciare nel rettilineo che in Formula 1 sancisce la fine del primo settore mentre qua da inizio all'ultimo lontano dal cordolo qua il Bercorius la tiene bene strettissimo alla Laffield vediamo come va a concludere sfrutta il cordolo in uscita vediamo se farà anche più di un giro 2-1-0-7 si è grotta la posizione in questo momento probabilmente non sarà il suo giro migliore può sicuramente migliorarsi andiamo su Porca Vacca e poi su Top Gun direi vediamo se Top Gun è ancora in giro si sono tre più richiesti vediamo Porca Vacca ha girato bianca davanti a lui c'è anche Lucas Brain che forse gli ha dato fastidio nel suo giro però che sia nel giro Lucas Brain quindi si anche il 721 di PRS3 sul traguardo che si migliorano ancora e si prende anche la quinta posizione attuale con Porca Vacca Porca Vacca faccia 46-4 no no tanto è Lucas Brain lì davanti che fa un ottimo tempo anche Lucas Brain si prende la quarta andiamo su Top Gun grande tempo di grande tempo di Porca Vacca 56-4 56-3 a 4-3 a 4-3 a 4-3 porca Vacca ma un ottimo tempo anche il suo sta concludendo numero 26 e numero 12 più numero 12 che è Mark Driver 17 sul traguardo in questo momento Mark Driver Tempo alto il suo, anche più alto di quello di SuperChoris che però ancora al DeLoop sta per terminare il suo giro L'abbiamo ripreso Top Gun ragazzi, però giustamente sono 18 in pista Noi guardiamo chi sta terminando il giro perché è l'unico riferimento che si può avere qui ed è nel giro e lo nevano riprendere Termina adesso infatti SuperChoris Vediamo se si va a migliorare, si andrà a migliorare, fa 59.4, non migliora, no si invece prende la posizione su Manfrance e su Focus Il prossimo concludere sarà Ciucchino e poi dopo Ciucchino Lorenzo Tocci Per inquadrare questi due che non abbiamo ancora inquadrato Ciucchino è il numero 16 E poi è il numero 18 Sfondata quindi Ciucchino Vicky no, non giocare a FIFA, non parlare di FIFA Lascia stare, spegni Vieni a correre Racing Ciucchino ultime curve Larghissimo però Molto largo direi Allora ti segui le ultime curve di Lorenzo Tocci Direi di crashare Miseramente così L'avete visto come è crashato Non uno qualsiasi Lorenzo Tocci sul traguardo No, è una posizione per lui Mancano solo il Trambo E il Vertocci Sta concludendo il giro E Ciucchino come i tempi Che abbiamo visto è andato lungo prima E il Vertocci sul traguardo Non si migliora Vediamo se si migliora il Trambo Si, si porta a casa un tredicesimo posto per adesso Non basta per la qualifica il tredicesimo Serve almeno ad una posizione Ora Alex Sesto attualmente E poi XFloid Andando a concludere il giro Anche Ciucchino E Lorenzo Tocci Proprio noi due che hanno appena terminato Si sono anche rilanciati Pachi E via via tutti gli altri Anche lo stesso Porcavacca nel giro E anche Top Gun Top Gun si è appena lanciato Lo vediamo alla sequenza Oh, svegli errore Quindi Top Gun che annullerà il giro Va addirittura lungo Si Poi dite che non ve li inquadro Per me li inquadro Sbagliano Eh Crash a tia No, non crash io Dai, no, no Ci sarà più quasi bello No, no 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 Senza migliorarsi No, no интер metro C'è anche Porcavacca che sta arrivando, Pachi sul traguardo non si migliora, Porcavacca davanti un'auto che colpisce in pieno, si è girata davanti a Porcavacca l'auto di Il Trambu e ovviamente Porcavacca lo ha centrato, non poteva fare nulla, questo è il problema di stare con un'auto troppo attaccate. Mentre Alex Digre sta concluendo il suo giro, però adesso è contattata a casa un'ottima terza posizione, vediamo se riuscire a fare ancora meglio di questo. Sono eh, ti dico se vuoi Lomburgo? Si ce l'ho già, sono con Alex Digre. Quindi Porcavacca non farà un altro giro Porcavacca, mentre lo faranno... Stavo guardando i numeri, Top Gun è... Alex Digre si migliora, ma non riesce a prendere la seconda, non riesce. Oh, è pochissimo però, fa un grande tempo Alex Digre. XFight non si stava migliorando, quindi abbandona il giro, ciocchino, poi... Top Gun è riuscito a rilanciarsi, sì, è riuscito a rilanciarsi... In 40 secondi deve fare un miracolo la seconda manata lì. Assolutamente. Invece Ciocchino sta per concludere. Pacchi va a tagliare giro, quindi non concluderà. Invece Super Chorus si... Ciocchino non riesce a mantenersi davanti al Super Chorus, quindi si tiene la tredicesima posizione. Arrivano proprio Super Chorus con dietro di lui Manfrance. Entrambi devono violarsi anche Focus. Ha sbagliato molto questa curva qua Super Chorus, quindi attenzione, perché potrebbe fare un bel salto, perché alla fine dalla nonna posizione alla tredicesima sono tutti abbastanza vicini. Vediamo Super Chorus non si migliorano, non si migliorano. Si migliora invece... Forse si è migliorato e qualcuno altro si è migliorato, ma di poco. Si, si è migliorato, ma di poco sono migliorati, però Smoss, Pacchi eccetera eccetera. Conclude anche Mark Driver? Vediamo se Top Gun è riuscito a rilanciarsi. Non ci farà vedere, purtroppo, il suo ultimo tentativo. Si avesternano nel giro. Forse è Lucas Brain, Alex BS sono nel giro. No, Lucas Brain no. Il BS si, ma è un altro giro. Bravo Top Gun intanto dice Leclerc. Bravo anche porca vacca che in questo momento ha rapporto virtuale almeno di che clamorosi giri di Alex BS. Però è un ottimo pilota quindi può riservarci qualsiasi cosa. Andiamo a vedere cosa si inventa alle ultime curve. Bene uscita al SBS. Tiene il solo a sterzo. E fa 58,2. Non si migliora. Non si migliora, non si migliora. 91 ancora una volta si porta a casa alla pole position. Allora raga, come potete vedere la partenza non è stata eccezionale. Ma perché sono stato molto attento a evitare incidenti. Ho frenato molto prima nella prima curva a destra. Proprio perché non volevo compromettere la mia gara al via. E sapendo quante ne succedono nelle gare al via ho cercato di evitare totalmente. Infatti ho perso anche posizioni. Tutto ciò però mi è stato restituito perché all'inizio possiamo vedere sono stati tantissimi contatti raga e errori. Che ci hanno fatto balzare in avanti subito. E questo ci ha aiutato molto. Io sono stato molto consistente a non commettere errori e a viaggiare sempre sui binari. Proprio sono stato un martello e quindi sono riuscito ad andare molto avanti ragazzi. Vedremo anche dei duelli. Molto ravvicinati però tutto abbastanza diciamo regolare. Purtroppo chiaramente sono delle toccatine che capitano. Ma non è quello il problema. La partenza è stata veramente molto buona raga. Molto lentamente prima marcia. 57 km orari. Vede anche lui i semafori, 5 semafori rossi. Si sta avvicinando in linea del traguardo e sta per partire. In questo momento il Gran Premio di Silveston. La seconda semifinale. Con porca vacca un po' il position. Allestina è molto delicato. All'esterno che va fuori la Cops Top Gun e passa. Passa Top Gun. Passa. Ti prende di forza la leadership del Gran Premio. Manamma mia, perciò il passo. Attenzione niente, è aggressivo anche il Bertoche su Alex Tigre. Mentre taglia tutta la curva smonso. Andiamo davanti su Albertoche L'errore di Alex Digre che va lungo la store E ne approfitta Albertoche E ne approfitta anche Lucas Brain Per le due posizioni qui Alex Digre Per un errore di misura Con Alex BS che si mette dietro Sesto Anche Dix Floyd che ha perso tante posizioni Non è in quella posizione che vediamo Con anche due attacchi Abbastanza aggressivi Bene invece Lorenzo Tocci in partenza Sembrava Adesso però anche all'interno Della Battaglia vera Lungo Attenzione in due lunghi Sia Tocci sia Sté Che devono diventare in un punto di pista Molto pericoloso Prima del loop Con Alex Digre Che Mantiene la quinta Me l'aveva dato per un attimino Come se avessi recuperato posizione Rimaniamo qui sul gruppetto davanti Sicuramente Porca vacca Ho visto sparire Troppo che ho un po' lo secondo Nella mia visuale No 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 c'è 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 Sì sì no Sono È venuto infatti un colpo Mentre però bevi per Pia Reste Lo vedo fermo 721 Sì 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 Purtroppo Mandiera gialla Al del loop Al del loop Pitlane aperta con Porca vacca Che segue da vicinissimo Top Gun Sfida aperta tra due Con Attacco di Porca vacca Vediamo se Non si può fare Tiene giù top gun a Magots Tiene giù top gun a Magots Intanto andiamo a rivedere proprio No scusate Di replay Con Porca vacca Un po' il position Alestino Se non le so passano Nella partenza iniziale Che va Con l'esterno preso Lo vedete Da top gun Si va a prendere la prima posizione Nel frattempo E live In questo momento Il gran premio Di SIG E si c'è anche Lucas Brain Dietro di loro Anche Lucas Brain È stato preso Porca vacca Dato l'attacco Attenzione Si è stato colato male Eh sarà da valutare Eventualmente Anche questa Con la commissione di gara Assolutamente Mentre Super Corris Si è preso All'altra La grande partenza Di Super Corris Assolutamente Si Top gun Dove sei rimasto In questo momento In Top gun Dovrebbe essere In quinta posizione Speriamo non abbia danni E che Esca ovviamente Sarebbe un peccato Ovviamente Non vederlo Poi in finale Perché Abbiamo visto Che ne ha Ricordiamo Ricordiamo sempre Anche che è importante Arrivare decimo Ad esempio Perché se c'è qualche Defezione Qualche Squalifica O qualche pilota Che non può esserci L'uno di prossimo Ad esempio Il decimo posto Può essere importante Assolutamente Assolutamente Sono molto aggruppati Da Molto vicino Dal Super Corris Fino A Focus Addirittura Sono Sono tutti sotto il suo mondo Esatto Di qualche decimo Fino al Trambo In realtà Sono tutti sotto il suo mondo Mi piace ragazzi Anche la nuova grafica Piccola Infezione A correzione Anche di Super Corris 84 Alla Laffield La Super Corris È andata A prendere Lorenzo Tocci Perché era Oltre il secondo Andando molto bene Sia lui Sia Sia Lucas Brain Che ha perso Adesso Qualche posizione Per via Di quel contatto Sempre con Con Top Gun Ora si sono messi sotto Lo stanno recuperando Mentre Top Gun Non sembra avere danni Perché comunque Mantiene la distanza Su Manforce Vediamo Se sarà così Anche per tutto Il proseguito della gara Però Che è ancora molto lunga Mancano ancora 10 minuti Sembrano un attimo Ma quando sei lì Seduto sull'auto Sembrano interminabili Eccoci qua raga In questa fase Ci sono state anche Dall'uscita di strada Illustri Di piloti forti Infatti Questo che ci ritroviamo Dietro con la macchina Come la nostra È uno di quei piloti Che si era qualificato Molto avanti Quindi aveva un passo Decisamente veloce Nelle prove Rispetto a noi Però sappiamo che In gara poi Tante volte La storia cambia Perché è difficile Superare Perché ci possono entrare In ballo Tante dinamiche E infatti raga Ci ritroviamo Clamorosamente Per errori Qualche sorpasso fatto Settimi Sarebbe una posizione Eccezionale Perché ci Non solo qualificherebbe La finale Ma andrebbe Ben oltre Le nostre prospettive Ci siamo messi dietro Undici piloti E ricordiamo ragazzi Che questo È un livello Molto alto Ci sono piloti forti C'è gente che ha Tutta un'attrezzatura Diversa E non come noi Abbiamo questo Povero misero Volantuccio Ori Apex Che comunque Il suo lavoro Lo stava facendo Come ho già detto Avevo riuscito a mettere Il traction control A due Quindi quasi Del tutto spento E stavo riuscendo A tenere un passo Molto molto buono Quindi In questa fase Siamo veramente Veramente Forti E forse Riusciamo anche A riprendere Quelli davanti Anzi ci riusciamo E A puntare Nella top 6 E si Topgana Posa di due secondi Quindi sembra Perché l'auto Comunque ci apre Il momento Speriamo Bella Horizon Complimenti A te Per la gara Dillo Che hai tramato All'ultimo giro Quando sei uscito Alle Alla sequenza L'abbiamo visto Come Disconnesso Il controllo Addirittura Come Come Ascari Aspettate Un secondo Quello Non si può Devo fare A tre Deci E se poi Devo fare Star Live Ho passato Manfrance E adesso È lì Con Alex Vs No Ho cliccato Un tasto Per sbaglio Crasciato Vabbè Vabbè Lo sapere Che te la succede Qualcosa C'è il mio Board Tranquillo Con Top Gun Vuole andare a prendere il polio Anche se sarà difficile Per lui andare a prendersi La vittoria Che gli dava magari Quel punticino Però visto Oh Top Gun Va su Alex Bs Non perde tempo Top Gun Lo attacca Addirittura L'uscita Dalla Copse Gli lascia Lo spazio Ma è dentro Grande Adesso il passo Grande manovra Quella di Top Gun A Magos Ciao Adesso A Napoli Che non può Che fare E ho crashato Quello sbaglio Napoli Dice che sono collegati Che fare Certo Sì Dai 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 Assertiamo Per il finale Mancano 8 minuti circa Giusto? Mancano 8 minuti 10 secondi Con Adesso Adesso Le disessioni Sono Infatti Sono un po' Guanti Allo FDS Che prova A rimanere Quanto più vicino Possibile Farsi trainare Da Top Gun Ha fatto Un grandissimo Sorpasso In uscita Da Copse Sembra vero Di qui Però Il 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 11 La Dietro Continua Una Battaglia Incredibile Che va Da Super Corris Fino Al Trambo Sono Tutti Molto Vicini Tutti Tutti Molto Vicini E' Tsum E qua ragazzi Inizio a avere problemi di gomme chiaramente la mia guida era molto dispendiosa ripeto avendo un volante senza force feedback in molte uscite di curva forse ho consumato eccessivamente le gomme stavo valutando di alzare il traction control ma ho voluto provare a tenere dietro gli altri si era creato una fila dietro di noi però ci stavamo difendendo raga in questa fase mi stavo comunque difendendo e dato sì che mancavano scarsi tre giri sapevo di poter arrivare comunque in zona top 9 che ci avrebbe qualificato alla finale dietro iniziano a premere io non mi scompongo più di tanto però inizio allargare un po troppo le traiettorie raga come potete vedere non riesco a tenere più la vettura in pista seguendo le traiettorie chirurgiche che avevo seguito prima quindi iniziamo avere i nostri problemi se dietro ci attaccano in maniera onesta ci riusciamo a difendere se no chiaramente potrebbe succedere di tutto 1 2 3 4 4 volte 0 se così guardate un super corriso la perde ha a te che si riesce in qualche modo a tenerla sotto assedio da lucas brain 77 supercorris però in qualche modo ha perso però il contatto con la vettura davanti un forte controllo a becchers ma spazio finale quindi tipo anche per smoss che ad essere lì proprio in questo gruppetto che sta giocando la qualificazione più importante passivano la nonna posizione ha perso contatto pachi da da questo gruppetto che ripeto ma da super cornice fino appunto a smosso sono in quattro raggiocarsi due posizioni adesso ho visto un attimo di lag brutto purtroppo non si capito niente e ho visto del lag su supercorris l'argo anche al delup supercorris sembrava un po di rischia di essere attaccato e lag non lo so ma rischia adesso seriamente di essere attaccato di lucas da lucas brain che attaccatissimo non si guadagna così tanto qui con la scia ragazzi come in formula 1 soprattutto non c'è diverso di nuovo l'album corris e si chiara anche fly doppio tocco uno sull'alto e alla fine che ci rimette supercorris che però nel taglio forse riesce a diventare comunque nella lotta e poi no viene centrato qui floyd lo centra proprio molto pesantemente doppio contatto per floyd da rivedere ed ecco l'incidente raga inevitabile ma non per colpa nostra ero andato largo nella penultima curva quella tutta sinistra molto largo supercorris però c'era da dire che avevo la traiettoria a favore nella curva che girava poi a destra e metteva nel rettilineo del traguardo se non fossimo stati speronati avremmo potuto comunque tenere la posizione eravamo sotto assedio raga ma mancavano due giri quindi potevo comunque cercare di gestire avrei aumentato un po il traction per avere un po più di stabilità in uscita di curva un po più di controllo elettronico ed invece come potete vedere io vado largo si inserisce quello dietro di me e dietro arriva questo qua che sperona tutte e due purtroppo raga io sono andato completamente fuori strada ho tagliato la curva sperando di riuscirmi a immettere nella pista appena tornavo nell'asfalto invece appena sono entrato in asfalto purtroppo sono andato lungo ancora perché qualche danno evidentemente già c'era mi sono messo a costeggiare sul cordolo all'esterno la pista per cercare di riguadagnare e le ho preso un'altra botta pazzesca sarà da rivedere questo contatto e quello che c'è stato precedentemente come sempre io seguo dall'ombordo non ci ho capito non si è capito niente è vero che anche corris li è rientrato in una posizione di pista molto pericolosa da rivedere non è facile va bisogna avere gli on board dei piloti più che altro inizialmente tutto è nato da florida che ha provato a buttarsi al alla brooklands dove erano già due piloti in battaglia ha visto andare largo corris e ha trovato l'interno lì si sono toccati in tre corris poi ha tagliato la curva ed è nato quello che è successo quello che è successo poi mentre porca vacca ancora conduce la gara non crediamo che anche porca vacca è sicuramente passibile di penalità oggi se la programma andiamo nel tramo perché comunque se visto da live sembrava proprio incolpevole top gun per cui forse più chiaro ma ride se io ero un board con porca vacca quindi non sono di solito adesso siamo cosmos e lucas brain la lotta più aperta in questo momento mentre porca vacca ha iniziato da poco probabilmente il suo niente raga qua dopo questa botta che ho preso praticamente era esterno alla pista infatti mi era stato chiesto anche se fossi rientrati in maniera garibaldina invece no ero praticamente al di fuori della pista e sono stato preso per la seconda volta in maniera violenta e questo è quello che mi è dispiaciuto perché a quel punto la vettura era completamente distrutta ho iniziato a rivodagnare box ragazzi ma ho capito che non era più il caso anche perché una sosta che sarebbe durata almeno un minuto più il tempo di entrata e uscita ci avrebbe fatto riuscire no ultimi di più e allora ho optato per il ritiro dispiace raga perché veramente ero convinto di farcela veramente ero incredulo soprattutto perché a livello prestazionale non immaginavo minimamente di poter essere così avanti e così vicino a una finale contro piloti fortissimi con la nostra dotazione che ripeto è molto di livello molto economico eppure ci credevo davvero raga sono rimasto arrabbiato infatti sono uscito subito anche dalla diretta twitch che stavo trasmettendo con tanti ragazzi che stavano seguendo per la rabbia sono uscito fuori e mi sono dovuto riprendere sono stato un'ora un po schizzato per la rabbia però raga poi capisci che è un gioco e che bisogna prenderla con filosofia certamente se alcuni piloti in pista riuscissero a capire che certe azioni non si fanno magari non rovinerebbero le gare degli altri la gara continua e non ho neanche visto i risultati quindi ve la lascio tutta quanta però posso solo dire ragazzi che è stata una bellissima esperienza ringrazio gli organizzatori l'amico Raiden perché veramente mi sono divertito ci saranno tante altre gare con loro sia di assetto corsa puoi provare ma gennaio anche entrare nei campionati di formula 1 che sono veramente tosti ragazzi quindi spero che vi sia piaciuta questa mia prima esperienza ad alto livello ce ne saranno tante altre che vi proporrò sia su twitch che su youtube quindi raga seguitemi perché veramente ne vedremo delle belle vi lascio alla fine della gara godetevela e ci vediamo dopo per i video di super corris penultimo giro direi terzo ultimo giro no no potrebbe anche essere il penultimo vediamo secondo me fa questo e poi inizierà l'ultimo giro l'ultimo giro sì questo è il penultimo giro quindi un giro molto importante con floyd che comunque intanto deve tenere la posizione intanto grazie a bistecca 007 per il follo siamo nei minuti finali di questa gara e di queste due semifinali del torneo mentre napoli prova a gufare nonostante io ho detto che non ci può fare attenzione rischia il ban smoss all'esterno su floyd prima della store vediamo se tira la staccata avrei sì prova a difendersi il smoss non è facile infatti dovrà riaccodarsi nuovamente può pensare di provare l'attacco alla club vediamo no se coda ancora club difficile per pacchi pensare in un giro e mezzo di poter recuperare due secondi e 5 su floyd deve sperare in un errore di di floyd anzi un secondo e 9 scusate oppure in qualcosa davanti smossa all'interno prima del delup su sboss passa passa smossa e brain deve lasciare spazio può favorire questo gruppo di floyd e pacchi questa bagara un pochettino ma comunque distacco dovrebbe essere di sicurezza vediamo se succederà qualcosa come prima colpi di scena l'ultimo giro che si tratta prima colpo di scena ad esempio di fedel chicco che ha finito la benzina dovuto rientrare ha perso così dalla terza posizione ha perso totalmente la qualificazione alla finale quanto importante non combattere in queste finali sprint che portano direttamente alla finale i primi nove che in questo momento arrivano da parte una porta la porca vacca e finiscono a di floyd 777 ultimissimo giro per corre per l'ultima volta di questa sera l'anga strait che porta verso la sto porca vacca solo una piccola sbavatura poi il resto perfetto sicuramente non perfetto come danni perché ovviamente danni non ha avuto neanche una sbavatura ma comunque una grande prova la sua che al netto delle decisioni della commissione di gara gli porta in questo momento a casa quattro punti partecipazione pole position e vittoria della gara poi ci sarà da vedere se saranno decisioni diverse nella commissione di gara eventuali reclami dei piloti quello soffre un avvertimento napoli esperto di penalità confronta le due cose ma qui siamo su nella realtà con un sim racing con un simulatore un po' diverso da me tre secondi il vantaggio di bertoche di porca vacca sul bertoche questo punto fondamentale per lui tenere quanti più secondi possibili vista comunque l'incidente lo ha messo sotto giudizio dai tu per il limite del tracciato che l'ho preso alex diger che peccato per alex non so cosa gli sia successo mi ha preso tantissimo comporta vacca che arriva sul traguardo e vince la seconda semifinale porta vacca 91 vince lui dietro di lui elbertoche 94 i due fratelli portano a casa una doppietta e poi top gun 95 97 grande gara grande gara anna baianti alex bs 1980 grande anche la sua quarta posizione bravo anche manfo da un lorenzo tocci ai box cosa sta facendo no era concili del box da conclui del box e si riprende la posizione prenderà non ha per miracolo pazzo pazzo rischiato forse vinto la benzina focus mark driver il trambo alex diger vabbè ma fai prima a finire la gara purtroppo alex diger prende 80 secondi e finisce la gara così mi spiace per lui buonissimo ragazzo ma chi vince questa sera è porca vacca 91 che festeggia con i donuts questa serata veramente molto bella di assetto corsa e di torneo il primo di una serie di tre tornei ricordiamo si accumulano punti per ognuno dei tornei fino ad arrivare a una classifica finale che vedrà poi un vincitore della maglietta error quella che vedete sempre addosso nel rider